Buona domenica e ben ritrovati con il consueto riepilogo delle notizie della settimana che si è appena conclusa. Lunedì 21 ottobre Guardia di Finanza Palermo, denunciato un volontario palermitano, avrebbe eseguito una maxitruffa per quasi 200 mila euro ai danni di un istituto religioso femminile. Vediamo. Un volontario avrebbe fatto sparire quasi 200 mila euro dalle casse della comunità religiosa, figlie della carità del preziosissimo sangue. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno denunciato per truffa un palermitano di 44 anni, contestandogli di avere sottratto illecitamente alla madre superiore e ad altre due consorelle circa 200 mila euro. L'uomo si era conquistato la loro fiducia, invece le avrebbe raggirate. Si tratta di una congregazione a livello nazionale che da 150 anni svolge un servizio apostolico commissionario di assistenza a malati, anziani e persone in difficoltà in ospedali, centri di accoglienza e immense per i poveri. L'attività investigativa è stata condotta dai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, lunghe due anni, si sono concentrate sull'uomo che, approfittando della fiducia concessa, gli avrebbe avuto carta bianca sulla gestione economica di una casa di riposo collegata all'istituto religioso, entrando così in possesso di denaro di cui si sarebbe appropriato senza provvedere alle spese. Infatti, analizzando la documentazione bancaria dell'indagato e ascoltando alcune persone informate sui fatti, le fiamme gialle sono riuscite a ricostruire i movimenti registrati sul suo conto, i soldi che sarebbero dovuti servire a pagare i contributi dei dipendenti della casa di riposo, la costruzione di una zona destinata alla quarantena e comprare condizionatori e termoscanner, invece sarebbero stati da lui utilizzati, tra l'altro, per l'acquisto di diverse autovetture e motociclette per la ristrutturazione della propria abitazione. Annunciati a Catania i 13 vincitori del Premio Nazionale delle Arti 2024, Comunità di Saperi, organizzato dall'Accademia di Belle Arti, inaugurata anche la mostra con le 129 opere finaliste, esposte fino al 15 dicembre. Si è svolta al Teatro Massimo Bellini di Catania la cerimonia di premiazione dei 13 vincitori della 18esima edizione del Premio Nazionale delle Arti 2024, Comunità di Saperi, organizzato dall'Accademia di Belle Arti di Catania, su designazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. Inaugurata anche la mostra, che rimarrà aperta fino al 15 dicembre e che coinvolge tra i luoghi simbolo della cultura cittadina, Palazzo della Cultura, Fondazione Arte Contemporanea e Fondazione Puglisi Cosentino per l'Arte. Un'esposizione di grande rilievo dove si possono ammirare le 129 opere finaliste in un allestimento di forte impatto che mette in evidenza sia il valore delle opere realizzate da giovani studenti, sia il ruolo dell'Accademia di Belle Arti di Catania, che si conferma essere punto di riferimento nel panorama artistico italiano, dimostrando la capacità della città di connettere la sua ricca tradizione culturale con le sfide contemporanee dell'arte. Al premio hanno partecipato 25 Accademie di Belle Arti Satalia, un conservatorio di musica per un totale di 480 studenti da tutta Italia. Le due giurie specializzate nel campo delle arti visive e del restauro, nominate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'Accademia di Belle Arti di Catania, hanno selezionato le 129 opere finaliste e le 13 vincitrici senza conoscerne la provenienza in una condizione di totale imparzialità. Siamo veramente molto contenti, non sono a parlare di diritto, ma l'emozione in questo momento ci compenetra perché in realtà è una scommessa riuscita a creare una grande comunità di saperi che unisca insieme le Accademie, unisca insieme questo grande patrimonio artistico e culturale delle Accademie italiane, le 25 Accademie, moltissime le opere presentate, tanti studenti, una giuria severa, ma devo dire di grande esperienza, che ha selezionato delle opere stupende che sono esposte in tre luoghi importanti, sono esposti qui a Palazzo della Cultura, saranno Palazzo Valle e la Fondazione Brodbeck per quella sinergia tra pubblico e privato che è fondamentale per lo sviluppo di un territorio e sono qui insieme premiati soltanto 13 perché non si può premiare, si deve sempre premiare qualcuno, ma in realtà questo è un patrimonio per la città, per i visitatori, innanzitutto per i cittadini e per le generazioni più giovani, poi anche per i turisti, per chi vorrà vedere fino a metà dicembre queste mostre che sono poi anche lo sforzo complessivo di tanta ricerca, di tanta cura e di tanto magistero. Quest'anno il Ministero dell'Università di Ricerca ha delegato a noi l'organizzazione del premio e soprattutto della mostra. Il tema quest'anno scelto è comunità di saperi, di condividere far partecipare un alfabeto di saperi che vanno dalle arti visive, dalle arti applicate, quindi passando dalla pittura alla fotografia alla scultura, tutti insieme questi saperi e metodi con il contributo soprattutto degli studenti. Tengo a precisare che quest'anno sono oltre 480 gli studenti che hanno partecipato al premio e oggi in questo magnifico teatro daremo i vincitori delle 13 sottosezioni. Martedì 22 ottobre approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto sui migranti che contiene la lista dei paesi sicuri per i rimpatri e che nei fatti dovrebbe impedire la non convalida da parte dei tribunali dei trasferimenti in Albania. Insorgono le opposizioni, critica la magistratura, la premier Meloni, prioritario difendere i confini, in Italia si entra solo legalmente. È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto legge sui migranti, un provvedimento che la stessa premier Giorgia Meloni aveva annunciato nei giorni scorsi dopo che il Tribunale di Roma non aveva convalidato il trattenimento dei primi 12 migranti trasportati in Albania nei centri di permanenza per il rimpatrio voluti dal governo e aperti da pochi giorni. Il decreto legge approvato ieri, recependo le indicazioni dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sancisce quali sono i cosiddetti paesi sicuri in cui gli immigrati, che non hanno titolo per restare in Italia, possono essere rimpatriati. E lo fa con legge dello Stato e quindi fonte primaria del diritto. A questo punto non dovrebbe essere più possibile per i giudici non convalidare i trattenimenti, perché, come ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel momento in cui un elenco di paesi sicuri viene inserito in una legge, il giudice non può disapplicare la legge, ma solo rinviare alla Corte Costituzionale qualora individuasse profili di criticità. Abbiamo rispetto per i giudici, ma ci sono competenze della politica, detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Nei fatti, però, il decreto migranti è terreno di scontro tra politica e parte della magistratura e tra maggioranza e opposizione. La strategia, ha chiarito la Premier Giorgia Meloni, resta difendere i confini e ristabilire un principio fondamentale. In Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste. Le operazioni di trasporto dei migranti in Albania quindi procederanno, e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi respinge le critiche sui costi sollevate dalle opposizioni. Il Movimento 5 Stelle però non ci sta e presenta un esposto alla Corte dei Conti. Ma quanto ci costa, osservano i pentastellati, distribuire migranti tutti i giorni da Lampedusa a Pozzallo o Porto Impedocle? E quanto ci costa il sistema di accoglienza? Il Viminale spende ogni anno 1,7 miliardi di euro per dare assistenza a persone che per il 60-70% dei casi sono destinati a vedersi bocciata la domanda di asilo. Così i pentastellati, ma la legge è ormai legge e chi non ha diritto dunque potrà essere rimpatriato nei paesi considerati sicuri. Tra questi, ad oggi non ci sono più il Camerun, la Colombia e la Nigeria. La lista dei paesi sicuri comunque, dichiarato il sottosegretario Mantovano, potrà essere aggiornata annualmente nel confronto con il Parlamento. È diventato un inno alle libertà delle donne, virale sui social, il brano della cantautrice palermitana Giulia May, tra i partecipanti alle edizioni di X Factor. Libero, voglio essere libero, di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. Giulia May, nome d'arte della cantatrice palermitana Giulia Cattuogno, ci parla del suo singolo bandiera, inno al diritto di libertà delle donne, che sempre più spesso nel mondo viene negato. È nato, perché è successo un episodio, sono stata seguita una sera, comunque mi sono sentita seguita, mentre tornavo a casa e questa cosa mi ha aperto una voragine dentro, che era già aperta, perché non era la prima volta che io mi sono sentita in pericolo tornando a casa. Però quella volta è nata dentro di me un senso di rabbia, che è quella che sento veramente in moltissime donne, specialmente ultimamente. L'ennesima volta che mi sono sentita in pericolo è nata questa necessità di sviscerare questo disagio, metterlo in musica e raccontare il fatto che se non sono libera di fare determinate cose che dovrebbero essere assodate, appurate, così come si dice, perché sulla carta siamo tutte libere, ma in realtà non è così, allora vuol dire che io non sono libera, ma io voglio sentirmi libera, voglio essere libera di fare tante cose. Ho voluto raccontare la storia di tante donne anche diverse da me, culturalmente, lontane, geograficamente, e creare questa canzone che potesse essere qualcosa che abbraccia, che abbracci tutte le donne del mondo. Ti aspettavi che questo brano diventasse un manifesto? Mi aspettavo che potesse accadere, non mi aspettavo la mole di questa cosa, che potesse diventare virale, non me lo aspettavo. Io sono una che vola sempre molto basso, comunque non dico che non mi aspetto niente, però ho paura sempre di, come dire, di fare dei castelli troppo grandi. Nella canzone dici libera, prima o poi sarò libera, quindi pensi possa diminuire questa insicurezza o possa cessare questa insicurezza? Io non spero che possa finire l'insicurezza da parte delle donne, spero che possa finire la violenza da parte degli uomini. Quello che viene a galla è che noi abbiamo paura, ma non è quello il problema. Il problema è che è assurdo che noi abbiamo paura, perché a queste persone è sfuggito anche il fatto che io volessi raccontare altre donne che queste libertà che per noi sono così appurate, che quasi sembra stupido parlarne, per queste donne queste libertà non solo non sono appurate, ma sono negate appena la morte e appena tante altre cose. Io mi sento di consigliere sempre di rivendicare ciò in cui si crede, rivendicare ciò che si è, ciò che si vuole e aderire sempre a se stessi. Mercoledì 23 ottobre, dalla Sanità con l'emergenza delle liste d'attesa a rischio e marginazione. Sono stati questi i temi più dibattuti dal Consiglio Generale della FNP CIS di Messina che si è tenuto a Santa Teresa Riva. In questo momento uno dei problemi più attenzionati è proprio quello della sanità, che tocca tutte le fasce, tocca tutti ma soprattutto le fasce deboli. È attenzionato anche a livello nazionale e quello che dispiace è proprio l'inefficienza che noi ancora oggi dobbiamo registrare nella nostra regione, perché malgrado siano state stanziate delle risorse, proprio perché non vengono utilizzate, le liste di attesa continuano ad essere un problema grave. Per i pensionati ancora di più, perché noi siamo in quella fascia, l'età aumenta, quindi aumentano anche le cronicità. Abbiamo diritto ad una sanità pubblica per tutti e come FNP non ci fermeremo di fronte a queste cose e continueremo le nostre battaglie sul territorio, dove territorio per territorio naturalmente sono diverse. Le segnalazioni arrivano quasi per tutto, perché chiaramente il problema della salute è enorme, c'è stato un periodo di fermo legato al Covid, ma adesso sostanzialmente il problema maggiore è quelle strutture dove gli interventi sono per esempio nell'ospedale di Patti e il Policlinico soltanto, alcune realtà di questo genere, chiaramente le liste si accumulano come ritardi. Serve tutta una serie di attività e di servizi utili a fare sentire le persone che hanno, chiamiamole così, un'età avanzata, accompagnate a quello che è la quotidianità. Gli anziani più delle volte sono isolati, vengono lasciati soli e noi come CISL stiamo lavorando per stare sempre più vicino a loro e in prossimità. Abbiamo anche sotto questo aspetto iniziato delle attività legate alla sensibilizzazione, per esempio penso alla questione legata ai fenomeni delle truffe contro gli anziani, ma serve sicuramente recuperare degli spazi di aggregazione attorno a tutto quello che è la comunità messinese e quindi dare a loro quegli spazi dove loro possono organizzarsi e muoversi per stare in libertà. Dall'altro lato ovviamente il grande tema è quello delle liste d'attesa e la sanità che va riorganizzata affinché possa essere funzionale e utile ai bisogni delle comunità ma soprattutto degli anziani e dei soggetti fragili. Porto di Catania al via le opere propedeutiche al futuro piano regolatore 6,5 milioni di euro per un nuovo varco sud e corsie stradali. In attesa che arrivi il nuovo piano regolatore del Porto di Catania che segnerà una svolta senza precedenti nel rilancio dello scale etneo in termini infrastrutturali e di servizi, l'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale non intende perdere tempo e sta avviando una serie di opere che anticiperanno in parte il futuro disegno. Per iniziare entro la fine dell'anno sarà indetta una gara per l'importo di circa 6,5 milioni di euro finalizzata al rifacimento ex novo del varco sud, principale porta d'ingresso dell'area portuale e unica per le aree commerciali. Il presidente Francesco Di Sarcina afferma, come più volte annunciato, il nostro intento è migliorare il rapporto tra città e porto che deve essere aperto e rivolto ad essa e non darle le spalle, ma questo obiettivo si deve conseguire attraverso iniziative sinergiche con le attività svolte all'interno e in un mosaico complessivo che non penalizzi il grande valore economico che riveste il porto commerciale. Grande attenzione al profilo ambientale con l'utilizzo di materiali con criteri ambientali minimi all'impianto fotovoltaico collocato nella pensilina di circa 500 metri quadri che rende autosufficiente la struttura sottostante e quello di trattamento e accumulo delle acque piovane. Il progetto include il rifacimento del manto stradale per circa 15 mila metri quadri di asfalto che verrà realizzato utilizzando una miscela utile a conferire al tappetino di usura maggiore resistenza e durabilità e quindi minori interventi di manutenzione. Due grandi careggiate stradali con tre corsie l'una per una migliore gestione delle operazioni di controllo in ingresso uscita. Un'area di 200 metri quadri per accogliere veicoli in entrata e in uscita contro gli addetti ai lavori. Sarà rinnovata l'illuminazione al fine di conciliare esigenze funzionali legate alla viabilità e artistiche così da valorizzare l'imponente arco. Giovedì 24 ottobre, incardinata all'Ars la riforma che reintrodurrebbe l'elezione diretta nelle ex province. Il DDL però non convince e spacca la maggioranza mentre l'opposizione è già sulle barricate. Il disegno di legge per la reintroduzione dell'elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri dei liberi consorsi e delle città metropolitane in Sicilia fa discutere animatamente la politica regionale siciliana e non solo. La riforma che reintrodurrebbe l'elezione diretta nelle ex province spacca già la maggioranza e mette in guardia l'opposizione pronta alle barricate. Il DDL della discordia di cui si discute è stato incardinato in Commissione Affari Istituzionali all'Ars e porta la firma di alcuni deputati del centrodestra, tra cui il presidente della Commissione Ignazio Abate. Da subito però, al vertice di maggioranza, Fratelli d'Italia aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità del DDL visto che la norma nazionale che prevede liberi consorsi e città metropolitane al posto delle province è ancora vigente. Nello stesso avviso, dall'altra parte della barricata, i grillini che con Martina Ardizzone accusano il tentativo del centrodestra e velleitario, prima di tutto perché la riforma allo studio sarebbe incostituzionale e poi perché ne parlano da due anni senza cavare un ragno dal buco e adesso vorrebbero approvarla in due settimane o poco più. Ma a dare l'affondo più duro è il PD con Cracolici. Dopo 12 anni di commissariamento e con la data del 15 dicembre già fissata per le elezioni di secondo livello per i liberi consorsi e città metropolitane, ha dichiarato il deputato PD, non si può più consentire questo giochino. Se non si va al voto andiamo incontro ad una grave violazione statutaria che può portare allo scioglimento dell'Ars. La maggioranza prova a fare un DDL per rinviare le elezioni provinciali. Se dovesse passare questo provvedimento presenterò un ricorso per chiedere l'annullamento del voto. Se infatti non c'è una legge nazionale che autorizza a votare in deroga la legge del Rio, siamo tenuti a votare con il sistema di secondo livello. Questa nuova sortita sulle province dunque non nasce sotto una buona stella e anche da Forza Italia per l'eurodeputato ed ex assessore Marco Falcone tentare di approvare questa legge sarebbe un errore. A Palermo la prima tappa degli Stati Generali della Cultura 2024. Al centro l'impatto delle nuove tecnologie sulla fruizione del patrimonio culturale e come si sta modificando la produzione di cultura. Per noi era un motivo di grande orgoglio poter portare questa iniziativa su questo territorio perché simbolicamente rappresenta davvero un grande riferimento e quindi partire da qui è un bel segnale. Devo dire che peraltro il territorio, la città ha reagito in maniera straordinaria e quindi daremo vita veramente a tanto contenuto per capire un po' qual è lo stato dell'arte, quali sono le opportunità e cosa possiamo fare insieme per far crescere questo movimento che è una grande componente del PIL del nostro paese. Un evento che accogliamo con grande piacere e favore soprattutto è il segnale che questa città anche sotto il profilo culturale sta crescendo molto e si sta prepotentemente affermando all'attenzione nazionale come luogo in cui non soltanto c'è cultura perché sono testimonianze del passato ma si produce cultura e si guarda al futuro. Un riconoscimento per la città che diviene un luogo di dibattito culturale nazionale indicando tra l'altro una strada che è tra quelle privilegiate per la propria economia e per la propria preparazione del futuro, cioè quella della cultura intesa globalmente come elemento di formazione ma anche come elemento di innovazione oltre che di tradizione. Un report ha certificato, uscito oggi, che oltre mezzo milione di giovani lasciano l'Italia e molti di più nel sud Italia. È un fenomeno che conosciamo da tempo e che stiamo affrontando nell'ambito di una globalizzazione che determina come normale una mobilità intellettuale giovanile. è chiaro ed evidente che dobbiamo mettere i nostri giovani, e lo dobbiamo fare tutti insieme, istituzioni, luoghi di investimento, dobbiamo mettere i nostri giovani nella condizione di poter scegliere di andare via e non di essere obbligati a farlo. La cosa triste è che torna soltanto uno su dieci. Beh, torna uno su dieci ma oggi la sfida è anche quella di invogliarli a rimanere e su questo si sta lavorando. Uno per esempio dei grandi strumenti per favorire questo è il digitale. Venerdì 25 ottobre, controlli della Guardia di Finanza di Siracusa a pochi giorni da Halloween. Oltre 53 mila articoli tra giocattoli e decorazioni per la festa sono stati sequestrati nel corso di un'operazione finalizzata a contrastare la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti. Le indagini condotte dalle fiamme gialle della tenenza di Lentini hanno riguardato gli esercizi commerciali di Lentini e Francofonte. Durante le ispezioni sono stati sequestrati più di 53 mila giocattoli con decorazioni e accessori per Halloween per un valore di decine di migliaia di euro. I prodotti ritirati dal mercato erano privi della marcatura CE e non rispettavano le norme di sicurezza previste dal codice del consumo. Le confezioni in particolare non presentavano le informazioni obbligatorie in lingua italiana né le dovute avvertenze sui rischi di soffocamento legati alle componenti di piccole dimensioni. L'operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controlli che il corpo sta portando avanti in tutta la provincia retusea con l'obiettivo di tutelare la sicurezza dei consumatori e garantire la legalità nel mercato. In vista di Halloween infatti aumenta la richiesta di prodotti legati alla particolare festività e con essa anche i rischi legati all'acquisto di merce pericolosa. I titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati alla Camera di Commercio del sud-est di Sicilia per l'erogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. L'azione della Guardia di Finanza non si limita alla repressione del commercio abusivo ma mira anche a sensibilizzare i cittadini sui pericoli che possono derivare dall'acquisto di prodotti non conformi. Contrastare la diffusione di questi articoli significa non solo proteggere la salute pubblica ma anche garantire un mercato competitivo ed equo per tutti gli operatori economici onesti. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni con un'attenzione particolare a tutte quelle categorie merceologiche che in vista della festività di origine anglosassone possono costituire un rischio per la sicurezza dei consumatori, soprattutto le più piccoli, i quali hanno il diritto di vivere il famoso rito del dolcetto schersetto in assoluta tranquillità. La Guardia di Finanza ha anche il compito di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti in vendita sul territorio e nelle piattaforme online a tutela di tutti i cittadini, in particolare dei più piccoli, che hanno il diritto di festeggiare qualsiasi ricorrenza, in questo caso la festa di Halloween, in assoluta tranquillità e senza rischi per la salute. Cyberbullismo, un fenomeno in forte aumento che continua a preoccupare anche a seguito dei recenti fatti di cronaca. Parliamo di cyberbullismo, un fenomeno sempre più dilagante e preoccupante. Siamo preoccupati, siamo preoccupati come Fondazione Carolina perché in tutta Italia il fenomeno sta crescendo, anche in Sicilia abbiamo dati preoccupanti, sappiamo che almeno 2-3 minori su 4 sono stati vittime o hanno assistito a un episodio di una qualunque forma di bullismo e in particolare di bullismo in rete. Siamo preoccupati perché i ragazzi non parlano, non raccontano, ma sono vittime e soffrono, fino ad arrivare poi, come ci raccontano anche i casi di cronaca, a gesti estremi. Crediamo che la scuola abbia un compito importante, fondamentale, ma non possiamo sovraccaricare la scuola ai docenti. Tutta la comunità educante deve mettersi in gioco. A partire dalla famiglia, nella quale devono essere condivise e stabilite delle regole per l'utilizzo sano e consapevole di queste tecnologie, fino poi ad arrivare a tutti coloro che hanno responsabilità educative. Educatori, allenatori, catechisti, tutti quelli che hanno a che fare con i nostri ragazzi devono in qualche modo farsi carico di questo problema. Tra i fattori di rischio anche l'intelligenza artificiale può essere catalogata tra questi? Sicuramente sì, ma come tutto quello che riguarda la tecnologia dobbiamo ragionare considerando la tecnologia come uno strumento. Impariamo a usare uno strumento, impariamo a usarlo in maniera responsabile e con intelligenza, non artificiale, ma emotiva, e allora anche quello strumento sarà uno strumento soltanto utile e non pericoloso. Voi in quanto fondazione, per fare anche conoscere la vostra realtà, cosa state mettendo in campo? In Sicilia abbiamo realizzato insieme ad altri partner Telefono Azzurro e Ma Basta un grosso progetto, uno nessuno 100 giga, che ci ha permesso di formare tanti insegnanti, tanti docenti, dirigenti scolastici e di incontrare tantissimi ragazzi. La questione però è che dobbiamo dare continuità educativa, non possiamo pensare che un progetto, una tanto, non possa risolvere il problema, bisogna parlare di questi temi tutto l'anno, a scuola e fuori dalla scuola. Sabato 26 ottobre, condannato a 12 anni e 8 mesi, uno degli aggressori della violenza alla Villa Bellini di Catania, avvenuto il 30 gennaio scorso, mentre i due egiziani, non maggiorenni, sono a processo davanti ai giudici per i minorenni di Catania. 12 anni e 8 mesi di reclusione, la condanna è emessa dalla GUP di Catania per uno dei maggiorenni egiziani accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una tredicenne. L'episodio fu commesso il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania davanti al fidanzato, 17enne, della vittima. La condanna, chiesta dalla procura, era inizialmente di 14 anni. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento di 50.000 euro come provvisionale ai genitori della minorenne, parti civili e 20.000 euro alle altre parti civili, tra cui il fidanzato della vittima e al pagamento delle spese processuali. È stato ordinato, tra l'altro, che dopo aver scontato la pena all'imputato per due anni, non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori. Altri quattro maggiorenni sono a processo con il rito ordinario davanti alla seconda sezione della Tribunale Penale di Catania. Tutti i procedimenti sono celebrati a porte chiuse, mentre i due egiziani, non maggiorenni, sono a processo davanti ai giudici per i minorenni di Catania. Uno ha avuto accesso al rito abbreviato e l'altro è giudicato con il rito ordinario. Determinanti nelle due inchieste sono state le dichiarazioni della tredicenne del suo fidanzato che hanno denunciato la violenza e poi riconosciuto i aggressori. Le loro testimonianze sono state acquisite durante un incidente approbatorio che si è svolto davanti ai due jeep distrettuali e per i minorenni che è stato acquisito agli atti dei due procedimenti e che sarà riversato direttamente nei fascicoli dei diversi processi. Allo Sferone il festino di Santa Rosalia di colore riscatto nel quartiere popolare di Palermo, il corteo colorato con 400 bambini della scuola Pertini è il carro di Cunellis restaurato. Un festino fuori stagione ma che rientra nei festeggiamenti del 400esimo di Santa Rosalia. Un festino che ha il sapore del riscatto di un quartiere di frontiera che ha in affidamento un carro che abbiamo restaurato grazie anche al contributo di associazioni e di privati, di Cepima e dell'Associazione Amici dei Musei, grazie all'attivismo della preside di Bartolo, grazie all'amministrazione comunale e vuole essere un segnale di attenzione ma anche di riscatto per un quartiere che ha certamente tante potenzialità. Ci siamo riusciti, siamo in tanti, non soltanto la scuola ma siamo con Amici dei Musei Siciliani, l'Arte di Crescere, tutte le associazioni che sono rese disponibili, le realtà imprenditoriali, Cassa Edile e l'amministrazione comunale. A questo quartiere servono i servizi, serve ancora più presenza istituzionale, noi oggi siamo molto supportati per esempio dalla polizia, dalle forze dell'ordine, ma servono anche servizi, servizi a partire dalla prima infanzia e a partire dal mare. Attendiamo, attendiamo tutti e tutte, non soltanto di godere, ma di avere un'alternativa legale, lecita che venga dal mare. E il fatto che il carro abbia questa forma di nave è una cosa bellissima, perché è veramente un filo conduttore. È stato bellissimo, la partecipazione del quartiere, la partecipazione di tante persone dal resto della città, i bambini e le bambine, bravissimi, bravissimi, quindi siamo veramente molto contente e molto speranzosi che questo possa essere veramente un giorno di svolta, di ribellione sana e andiamo avanti. Un festino che segna un anno, quello del 2024, e quindi il fatto che oggi, lungo questo stesso anno, si riproponga il carro di Cunelli, se lo si faccia nel quartiere dello Sperone, è al tempo stesso un segno di un'attenzione, di una devozione che continuano e dall'altro di un atto di fiducia, di attenzione, di rispetto nei confronti di questo quartiere. È un percorso che già è cominciato qualche anno fa, che vede un impegno crescente dell'associazione di volontariato, della scuola, del mondo della chiesa e dell'amministrazione, che da parte sua sta cercando di porre in essere tutte quelle misure per riqualificarlo, questo quartiere, questa zona della seconda circoscrizione. Ancora buona domenica, anche per oggi è tutto, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News. Grazie a tutti.